RIO Ricordo che quel mercoledì pioveva a dirotto a Rio. Per qualche ora è anche andata via la corrente al centro sportivo. Per colpa di quel temporale sono caduti parecchi alberi e purtroppo ci sono stati anche diversi morti. Il temporale è iniziato intorno alle 20 e 30 di mercoledì sera. Le zone sud e ovest sono quelle maggiormente colpite. Per via del diluvio il nigno d'Ulubu si allagò. Si sa che con alluvioni così violente possono esserci infiltrazioni, problemi alla rete elettrica e cortocircuiti.